A rischio c'è un affetto importante di territorio evitato colpito dalla flavescenza dorata, una malattia che colpisce i vigneti e che può compromettere il patrimonio viticolo dell'Emilia-Romagna. Ad essere più esposte da questo patogeno sono le varietà di Lambrusco di Reggio Emilia-Modena. Per questo motivo Cia Reggio ed Emilia Centro hanno organizzato un incontro sul tema per la gravità e diffusione dell'epidemia nel distretto dell'Ambrusco. La scelta di Correggio nel Reggiano per fare un'iniziativa sulla flavescenza dorata. In questi luoghi, in questi campi, in questi vigneti c'è una concentrazione molto elevata di questa malattia. Una malattia che coinvolge molti produttori, una sala piena di oltre 300 produttori che rappresentano una buona percentuale dell'Ambrusco che viene prodotto in questo territorio, Presidente. Sì, in ingresso stasera abbiamo somministrato un test alle persone che hanno partecipato per avere un po' il ritorno della loro percezione del problema. Sono risultati partecipanti, 1.600 ettari, quindi produttori di 1.600 ettari che rappresentano il 10% della zona vitata di Reggio Emodena, sono circa 16.000 ettari. Consideriamo che questo è un territorio molto vocato alla produzione di l'Ambrusco, parliamo di un territorio di 120 milioni di euro di PLV agricola, più immaginiamo tutto l'indotto per arrivare ad avere un prodotto che è il vino italiano più esportato nel mondo. Quindi la preoccupazione per questa malattia è altissima. Come sappiamo, Flavescenza non ha nessun effetto sul vino, quindi non c'è nessun pericolo per il consumatore, però le piante muoiono. E quindi gravi danni per i viticoltori. Quali sono i suggerimenti che si possono dare ai produttori in questa fase molto delicata? Flavescenza è una malattia che si vince se la combattiamo tutti uniti, perché oggi la parola d'ordine è quella di estirpare, ma occorre che tutti tolgano le piante. È inutile che io a casa mia tolga le piante, il mio vicino no, tanto per capirci, quindi lo dobbiamo fare tutti, lo dobbiamo fare tempestivamente e dobbiamo combattere tutti il vettore scafoideo titanus seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie. Quindi da questa serata qual è la sintesi che ne esce? Beh, insomma, da parte nostra, politicamente, è un messaggio che abbiamo voluto dare ai produttori, che è quello di aver riunito tutti quanti gli attori della filiera e devo dire in questo contesto che il Consorzio di tutela dell'Ambrusco, il suo presidente Claudio Biondi, sono mossi assieme a noi tempestivamente per riunire tutti gli attori attorno a un tavolo che ha coinvolto la Regione, che si è fatto a portavoce sia a livello nazionale che a livello europeo del problema, perché è solo rimanendo uniti e lavorando insieme che possiamo pensare di avere un qualche risultato. Noi vogliamo continuare a berci un bicchiere di Lambrusco, lo vogliamo fare anche in futuro e non ci piacciono per niente quelli che a livello europeo dicono che il Lambrusco o il vino è meglio lasciarlo a parte, è meglio bere altre bevande di cui non dico il nome. Ci teniamo molto alla viticoltura e ci teniamo molto al suo successo anche nel futuro. Claudio Ratti, docente di patologia viticola dell'Università di Bologna, cosa sta facendo il mondo della ricerca per cercare di contrastare questo patogeno che sta creando non pochi grattacapi a chi coltiva vite? Certo, ovviamente si sta cercando di trovare possibili soluzioni, possibili azioni di contrasto, sia dirette verso i fitoplasmi, sia attraverso l'interazione con il vettore e quindi la possibilità di ridurre l'efficienza di trasmissione del vettore. Stiamo lavorando con diversi colleghi, ovviamente in diverse università o centri di ricerca italiani, stiamo lavorando per cercare di individuare quelli che sono i fattori chiave che determinano questa efficienza di trasmissione da parte del vettore, scafoideus titanus, in particolare in modo legato a flavescenza dorata. Si sta lavorando sia con metodi che possiamo definire strettamente biologici, quindi l'utilizzo anche di microorganismi che possano infettare, diciamo così, il vettore e ridurne la capacità, sia la vitalità, sia la capacità di trasmettere il fitoplasma. Si sta lavorando sull'individuazione di suscettibilità dei diversi vitigni. Attualmente ci sono alcune indicazioni che vedono una diversa attrattività da parte del vettore verso determinati vitigni e questo ovviamente influenza la diffusione e l'epidemiologia del fitoplasma che viene trasmesso. Si sta lavorando sul vettore, cioè su microorganismi in grado di infettare il vettore e di ridurne l'efficienza, ma anche di microorganismi in grado di ridurre la presenza del fitoplasma all'interno della pianta ospite. Al momento sono tutti sistemi in via sperimentale, ci sono anche approcci biotecnologici di diversa natura, sempre legati a colpire il vettore o a colpire il fitoplasma. Sono tutti sistemi, dicevo, che attualmente sono modelli sperimentali. Purtroppo non abbiamo ancora evidenze sul sistema vite, flavescenza dorata, scafoideus titanus, che ci permetta di individuare un'attività, una strategia sicura, ovviamente dobbiamo assicurarci che queste strategie siano sicure per l'ambiente, per l'uomo, per i microorganismi non target e soprattutto efficaci. Dobbiamo essere sicuri che queste strategie abbiano l'efficacia necessaria per fermare questa problematica che sta causando veramente tanti problemi. I tempi della ricerca sono sempre lunghi, anche le risposte, quindi verosimilmente quando si potrà avere qualcosa di certo? So che è una bella domanda, però lo devo fare, lo devo chiedere. Ovviamente. Sì. La sfortuna vuole che questa patologia abbia una manifestazione da un anno all'altro piuttosto variabile e questo rende la parte della ricerca, quindi quella necessità che abbiamo di validare i nostri dati molto più difficile. Questo vuol dire che i tempi si allungano, non mi faccia dire degli anni, dei numeri di anni. Su alcuni aspetti non siamo così lontani da un'applicazione reale in campo. Nel giro di qualche anno pochi, al di sotto dei cinque, diciamo così, secondo me avremo qualche strategia diretta verso i fitoplasmi con cui potremo andare in campo. In campo intendo in campo produttivo, noi in campo con diverse strategie ci siamo già a livello sperimentale, quindi siamo in uno stadio già avanzato. Per le problematiche che vi dicevo prima abbiamo bisogno di provarli per più anni. Più anni vuol dire almeno 4-5 anni consecutivi perché la variabilità ambientale e i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro purtroppo rendono questa validazione ancora più difficile. Il mondo agricolo è in apprensione che cosa si chiede alle istituzioni per cercare di arginare questo grande problema che non è solo emiliano ma sta allargandosi a macchia d'olio anche nelle altre regioni che sono a noi confinanti. Come ci abbiamo fatto da subito delle richieste per cercare di contenere proprio la diffusione su tutto il territorio nazionale di questa patologia che abbiamo visto che sta dilagando. Le richieste sono per cercare di contenere il più possibile questo parassita. Una di queste richieste non può che essere un focus su quella che è la difesa, le linee di strategia, l'ottimizzazione di quelle che sono le strategie per cercare di contenerlo. Un'altra linea è la linea economica dove chiediamo che in qualche modo possa essere riconosciuto un indennizzo per questa operazione straordinaria che le aziende che hanno appena impiantato vigneti e devono subito estirparli si trovano ad affrontare e non ce la fanno. E l'altro tema è un tema normativo quello di riuscire ad andare incontro alle misure che ci sono al momento per dare una finestra più ampia per dare un pochettino più di tempo alle aziende per riuscire ad eseguire gli espianti per riuscire ad eseguire tutte quelle operazioni culturali che hanno dei ritmi che la natura ci impone. C'è una risposta dal punto di vista delle istituzioni che tipo di attività si sta svolgendo e stanno cercando di portare avanti il supporto delle imprese? Stiamo vedendo attenzione sotto tutti e tre gli aspetti e finalmente la regione ha preso in carico quelle che sono le nostre necessità e sta coordinata con le altre quattro regioni del nord sta cercando di portare avanti tutti e tre i punti che abbiamo detto prima quindi c'è un'attivazione sul profilo fitosanitario c'è un'attivazione forte di quelle che sono le linee per cercare quali sono le molecole più attive e vedere come comportarsi nella strategia di difesa integrata che la regione da anni applica c'è un'elaborazione della parte normativa per riuscire ad accompagnare le aziende avere una finestra come dicevamo più lunga per fare gli interventi e tutto questo cerca di dare un sollievo agli agricoltori grazie a tutti